Non l'ho fatto apposta. Sta molto attento. Tu non ci entrerai in questa scuola. Vedremo. 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 E a te che succede? È per Lola, vero? Quando imparerai che succede sempre la stessa cosa di fuoco? Lasciami in pace, perché ti racconto i fattori? Va bene, va bene, aspetta Ti darò un consiglio come se tu fossi me Non puoi reagire così Dile che vuoi buttarti da un viadotto, che ti taglierai le vene, che ti lancerai col paracadute, ma fa qualcosa Dopo tutto quello che hai passato insieme a Lola non puoi renderti così facilmente Volevo dirti che malgrado tutto, non sei stato male come compagno a distanza Volevo darti questo È un modello della barca su cui lavora mio padre E me l'ha dato quando sono venuto qui Mi ha portato fortuna Tienilo tu Basta che poi ci prendi gusto, non sei stato mai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti